Va bene, va bene, cominciamo subito con l'eleganza, via, 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 la nostra modella, guardate che buona, ragazzi, guardate che eleganza, come si muove, lei sì che viene da un'altra città, mica viene da Palermo. Chi sa pagare io o no? Cosa? Ma... Sono bella. Che voglio... Sono bella. Che parla piano, le modelle parlano piano, quindi... Sì, sentiamola. Sono bella. Sono bella. Sì, sono venuta qui, sì, perché volevo informare tutti i miei fan e i paparazzi che mi sono appena fidanzata con un calciatore. Ah, un calciatore di serie A. No, 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 più vicino, più vicino. Ah, più vicino, serie B. No, 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 più vicino, più vicino. Che dove gioca? No, vai che giuruma e va l'azzo. No, sono bella. Cioè, ragazzi... Sono bella. Ah, perché guardate, guardate l'eleganza pure mentre pensa, perché le modelle sono eleganti pure mentre pensano. In questo momento questa donna elegante cosa sta pensando? Ma è quasi addirittura. Sono bella. Ma che bella, è una bacia. Sono bella. Comunque adesso me ne devo andare. È perché ho degli animali domestici da accudire. Ovviamente però, gli animali che io non sono come quelli che avete voi. Certo, lei è di classe. Siamo di due classi. Siamo di due classi. No, 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 no. Troppo scontato. Ok, non lo so, c'è un labrador. No, non lo so. Troppo scontato. E che animale domestico ha? Iperocchi ne capiti. Però almeno abbiamo una cosa in comune.